Questo corso è diretto da un team di coordinamento, un producer, un supervisor e un regista, in questo caso io, docenti che appartengono alla scena internazionale. La creazione di questo corso al centro sperimentale rappresenta una rivoluzione, una grande rivoluzione. Proponiamo un'idea di cinema che va oltre il realismo e il neorealismo. Proponiamo non solo i fratelli Lumière, ma proponiamo Méliès, quindi il cinema come gioco di prestigio, come sorpresa, come incanto e come grande spettacolo. Partecipate al bando di selezione entro il 2 luglio, mi raccomando.